Salve amici del centro meteo italiano. Febbraio inizia con un netto aumento delle temperature, ma a seguire dovrebbe tornare il maltempo. Campo di alta pressione in espansione nei prossimi giorni sul Mediterraneo centrale con tempo più asciutto in Italia. Attenzione però alla nuvolosità che soprattutto al nord tenderà a divenire compatta, generando anche qualche deboli pioggia intermittente. Netto aumento delle temperature con valori che entro venerdì potrebbero anche arrivare a 8-10 gradi sopra media, specie al centro-sud. Ulteriore rialzo termico nel weekend, specie al sud, a causa di una circolazione depressionaria sulla penisola iberica, che richiamerà aria molto mite verso l'Italia. Struttura depressionaria che all'inizio della prossima settimana dovrebbe poi evolvere verso est, portando maltempo in Italia e anche un calo delle temperature. Per ulteriori dettagli seguite comunque tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.